e live buonasera come potete vedere il fondale è rouge nel rosso fuoco rosso inferno rosso dolore fatemi sistemare meglio la cam in modo tale che goku mi sia tipo santo patrono oggi benvenuti non vi saluto perché sono già incazzato non ci siamo ragazzi non ci siamo come che è successo tania non ci siamo non ci siamo oggi si va di matto allora succede questo succede che ci arrivano notizie veramente poco rassicuranti dalla scena per tutto il comparto produttivo uno si fa un marzo commercialmente terribile perché comunque non è un periodo buono per tutto il comparto retail derivante appunto dai caribollette tutte le situazioni generalizzate la guerra delle incertezze politiche tutto quello che sappiamo già e va bene arrivi al giovedì e la buona silvia che è la nostra project manager di dungeon dice tv mi gira un link di rai 1 un video uscito un servizio del tg1 a chiudere una settimana terribile ora ce lo guardiamo insieme io ho guardato i primi due minuti e già volevo esplodere il televisore vediamo ora come come va a finire su otto minuti di video grazie angelo per l'abbonamento grazie mille e sono veramente incazzato perché stamani abbiamo fatto la queen day sui problemi di comunicazione divulgazione giusto abbiamo fatta stamani ma purtroppo purtroppo la situazione è che partiamo da un mercato della comunicazione italiana che produce contenuti mamma mia mamma mia quindi bando alle sciance agli indugi prepariamoci affrontare sta roba io mi cuffio così sento quello che sentite voi voi cuffiatevi perché dovete sentire quello che sento io e vediamo che che cacchio succede vediamo che cacchio succede grazie giovanni che hai regalato la nostra scusa l'abbonamento per il canale dove lavora giulia vergogna trigger chat trigger shirt trigger cam cosa volete più della vita allora passiamo alla desktop scene guardate che bella inquadratura che ho beccato della giornalista poveraccia lei alla fine presente il tg però voglio dire anche in redazione mamma mia e vediamo che dicono sto già male ditemi se sentite l'audio per favore perché ora appena parto col play non vorrei che fosse troppo alto troppo basso così non sentite sicuramente niente buoni lì non vi agitate c'è tutto il tempo per agitarsi io voglio le vostre considerazioni ongoing perché così vanno qualcuno di voi dalla mia vita se date ragione a questi individui questi loschi individui sentite bene buonasera vale buonasera coso più volume di jay magari meglio sentite sempre basso sentite aspettate vi aggiusto io vi aggiusto io tranquilli vi aggiungiamo avanti vabbè vabbè ora poi dicono che non si debba fare clickbait no coca web coca web vabbè allora già qui mi incazzo io no ma cosa vuol dire abbiamo invitato i maggiori esperti quando si citano le fonti e parlo da accademico in questo caso perché io in un percorsi laurea chi di voi l'ha fatto sa come funziona le fonti si citano chi sono i maggiori esperti e parte che non ho capito l'utilità del grafologo ma i maggiori esperti chi sono non si sa nel servizio non ce lo diranno ok i maggiori esperti hanno studiato l'impatto del web sul corpo e sulla mente dei più giovani l'impatto del web quindi cosa perché è un po come dire hanno studiato l'impatto dei sistemi di motorizzazione industriale sul corpo e la mente dei giovani quindi dal dal vespino 150 alle macchine industriali ma cosa ma cosa ciao job benvenuto eh l'impatto del web ragazzi il web è qualunque cosa siti internet social network internet gaming la posta la pec per scrivere ai comuni questo è un senatore eh ricordiamocelo cioè questo non è un complottista un terrapiattista questo è un senatore a questa persona che vedete è concesso parte del potere legislativo il parlamento ha il parlamento e il senato hanno un potere legislativo cioè scrivono le leggi che regolano la nostra esistenza e lui con l'ausilio di molti esperti che non cita ha studiato che l'impatto del web ha delle conseguenze disastrose sulla mente e il fisico dei più giovani beh chissà cosa sarà questo web di cui parla poi notate bene l'impatto del web ma fa vedere dei ragazzini che videogiocano fra l'altro questo c'è il play cos'è questo il ps move ma cos'è la playstation 3 ma di quant'è questo repertorio vabbè ragazzi una barzelletta sta roba vabbè quindi scusate torniamo un attimo indietro che l'uso che non può che degenerare in abuso ragazzi è italiano questo scusate eh vorrei tornare un attimo da noi l'uso che non può che degenerare in abuso quindi io sto bevendo una birra Moretti e usando la birra Moretti fra tre secondi sarò alcolizzato proviamo non lo so devo essere diventato alcolizzato improvvisamente l'uso che non può che degenerare in abuso vabbè dai Mario ascoltare i nostri legis ho capito ma fanno le leggi queste vanno alla teoricamente il telegiornale sul primo canale il telegiornale più ascoltato dagli elettori italiani così dicono poi sarà vero o non sarà vero l'uso che non può degenerare in abuso ragazzi cioè ma possibile io non ce l'ho con lui no? che è lì a fare lo spottino del cazzo del suo libro ma è possibile che la giornalista davanti a lui dica scusi ma l'uso che può generare abuso in italiano significa che chiunque utilizzi il web ne diventerà un tossico dipendente è questo che sta dicendo? possibile? possibile? che non ci sia un giornalista che faccia le domande in Italia? possibile? possiamo chiedere ai giornalisti il servizio pubblico? di rendere un servizio pubblico? possiamo? non possiamo evidentemente benvenuto Paolo benvenuto Tommaso torniamo di là vabbè poi con la PS3 col visore quindi l'impatto era del web ma l'uso e l'abuso sono social e videogiochi l'impatto è del web ma l'uso e l'abuso sono dei social e dei videogiochi ascoltare i politici è un attimo motivo di autostima ma guarda bene i politici non frega proprio nulla io più che passa il tempo più che mi sento vicino a a a ogni forma di apolismo e di a partitismo possibile detto questo detto questo non è accettabile che su un servizio pubblico sul Tg1 in diretta si presenti questo signore che detiene il potere legislativo parte del potere legislativo in quanto membro del senato e mi venga a dire che da fonti ignote che però sono i massimi esperti settore inclusi i grafologi hanno studiato l'impatto devastante del web che vuol dire tutto e non vuol dire nulla in assenza totale di contraddittorio e con una giornalista che annuisce e non fa nemmeno una domanda paragoni l'uso del web alla cocaina alla cocaina e utilizzi una frase del calibro l'uso che non può che degenerare in abuso ragazzi cosa cazzo stiamo sentendo sul Tg1 ma qui dobbiamo innescare una rivoluzione culturale ve ne rendete conto? sì no cioè ve l'ho rimessa sette volte ma sentite cosa sta dicendo ma ci rendiamo conto che questa è nata un telegiornale non l'ha scritto su un blog suo a casa sua fra i suoi amici ragazzi questo è il Tg1 cioè va bene facciamo tutte le considerazioni anti-boomer ma chi se la guarda la televisione ma questa è la televisione pubblica la televisione di stato è la televisione che più di tutte dovrebbe essere super partes no invece mi preoccupo Turing perché non è così non è così perché purtroppo gran parte della popolazione votante li ascolta ora questo questo assume che l'effetto del web che non vuol dire nulla sia paragonabile alla cocaina perché viene se ve lo faccio risentire perché se cerne l'ormone del piacere quindi la cioccolata non può che degenerare in abuso perché se cerne l'ormone del piacere lo sappiamo tutti ti dicono di mangiare la cioccolata quando sei depresso quindi se mangiate la cioccolata siete dei cazzo di cocainomani no ragazzi è inaccettabile sta roba dai non è ci vuole un'inchiesta alla procura quella giornalista va a casa perché non ha fatto un contraddittorio non ha non ha fatto una domanda non ha detto ma cosa cazzo sta dicendo e il telegiornale paga e ora fa una puntata di rettifica invita i massimi esperti se esistono del signore in questione e gli fa rendere il conto di quello che hanno detto no no era per dire che il problema dei social non è dei giovani perché chi li utilizza peggio sono gli utenti facebook che non sono giovani vabbè ma non c'entra nulla Giulia cioè giovane o non giovane non c'entra nulla è un modo di analizzare il problema che non ha a che fare con le generazioni è proprio sbagliato l'approccio scientifico non siamo a parte i più giovani i più giovani qual è la fascia di età cioè un trentenne è il contesto più giovane un ventenne un decenne tanto definiamo i più giovani perché non è una categoria statistica non è manco una categoria istat i più giovani quindi già questi grandi esperti che non utilizzano categorie convenzionali li vorrei vedere in faccia e di ma che cazzo dite ma detto questo si è ancora tutto intero Guybrush per ora c'ho l'amoretti su cui sfogarmi per il momento ragazzi io vi saluto perché ho finito giusto adesso i 60 minuti giornali di internet disponibili qui in comunità bella Nick bella battuta scusate sto degenerando in abuso di birra anche la carbonara fa questo effetto ha voglia anche la salsiccia fa sbroccare questa roba meno male anche l'onanismo fa questo effetto se dobbiamo generalizzare bravo non spiegate al povero Cangini in quanti e quali modi sposa se scende dopamina o adrenalina anche chi fa sport è un abusatore di attività fisica ma infatti ma infatti coso smettetela pure di copulare perché dalla pillola blu alla polvere bianca è un attimo ciao giochi in giro benvenuto purtroppo non è la prima volta che i rei fanno servizi questo tipo almeno una volta l'anno però è grave che non vengano sanzionati un servizio così secondo me è da procura della repubblica è da procura della repubblica è da procura della repubblica è colpa mia Mario licenza Giulia ma figurati Giulia Ancuorone torniamo a questi Shangri-La quella roba lì quella roba lì ragazzi è la prima industria al mondo quella roba lì ma cos' lì 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 risentiamolo lì per un genitore è impossibile staccare il proprio figlio dallo smartphone e abbiamo risolto non è colpa dei genitori l'uso che non può che degenerare in abuso accade per colpa dell'esistenza intrinseca di questo male superiore che è il web come l'ha definito il senatore l'onorevole io lo dovrei chiamare onorevole se lo incontro questo per strada vi rendete conto onorevole i genitori non possono fare nulla poverini si sono picchiati a scuola ma non è colpa dei genitori sa mio figlio a casa non studia ma non è colpa mia non riesco a staccarlo ci ho provato ma inizia a sanguinare quando lo stacco dal telefono sarebbe interessante di sentire tutto il servizio lo sentiamo tutto lo sentiamo tutto ma guarda non lo so se porta le persone ad acquistarlo è una roba del genere non lo so perché una persona che ha voglia di leggere una roba così non la compra da questa presentazione quelli che ascoltano e danno retta a quello che dice secondo me non leggono perché sennò si incazzano cioè se è gente che abitualmente legge si incazza non lo so e beh a inizio live però Angelo dice che ha fatto brainstorming con i massimi esperti eh Mario vecchia storia dice Tania meglio dire che siamo un popolo di drogati e dunque loro non possono farci nulla piuttosto che dire che non fanno nulla per i giovani soprattutto per il loro futuro bacio in chat per te probabilmente da piccolo è stato picchiato con un Commodore 64 ma a proposito del giornalismo avete visto il post che sta girando in cui hanno pubblicato una plancia di gioco a tavolo spacciafola per mappa di un bunker qualità altissima vabbè applausi Mario sul lassismo di anno dei genitori grazie ma è triste comunque cioè vorrei prendere applausi per cose migliori di queste pensa che a lavoro mi hanno additato come mostra perché i miei figli hanno un timer sui dispositivi un'ora si blocca tutto e c'è il weekend ma guarda Angelo poi anche la questione dell'abuso e dell'uso bisogna vedere un attimo che cosa se ne fa perché questi aggeggi qua sono lo strumento più potente tecnologico più potente che abbiamo a disposizione da che l'uomo esista chiaro che se lo usiamo per scrollare come degli addicted a vuoto social su social senza farne alcun uso è sbagliato ma ci sono persone che grazie a questo si sono costruite imperi hanno creato posti di lavoro hanno creato nuove tecnologie hanno ideato nuovi sistemi di pagamento nuovi sistemi di comunicazione possono mettere in contatto possono far emergere disagi difficoltà personali lo strumento non può mai essere demonizzato in quanto strumento come si fa nel 2022 a non capirlo come si fa cioè dobbiamo sempre fare la redaxio alla bomba atomica e all'energia nucleare io boh proposta seria pensi che sarebbe possibile invitare pezzatata come cangini per un dibattito con persone che conoscono l'argomento mi piacerebbe ma questa gente ha un confronto serio non ci viene io ci andrei a un confronto così cioè se mi invita il Tg1 ci vado ma non mi inviterà mai comunque si comunque si sarebbe bello ma non ci verranno mai perché non hanno argomenti questi questi pianificano questo tipo di cose se sanno esplicitamente di non avere un contraddittorio perché se hanno un contraddittorio non ci vanno non li fanno queste cose qua perché lo sanno che vengono sbriciolati non contestati sbriciolati triturati devastati cancellati aggiungerei per citare il maestro di tutti i maestri andiamo andiamo avanti che mi salta davvero un bypass oggi concluda ecco concluda e ride ma cosa ridi ha appena ha appena vomitato ride ma questo doveva essere giovane quando quando uno dei mali dell'italia era l'eroina essere giovane non è mai stato facile ma mai come in questo momento what the fuck are you saying man essere giovane non è mai stato facile come in questo momento mio nonno da giovane andava a combattere in Africa ma cosa cazzo sta dicendo scusate ma 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 un percorso di storia questo l'ha fatta ma cosa sta dicendo cioè ma vi rendete conto vi rendete conto abbiamo come giovani non sono quasi più giovane ormai come mi ricordano sempre silvia e giulia vado nella a galoppo verso il bumerismo ma al di là di milioni di difficoltà di lavoro che appartengono alla mia generazione come a quella precedente alla mia e che però derivano dalla mala gestione di altre generazioni in gran parte ma tolta questo oggi abbiamo strumenti situazione sociopolitica che ci permette con lavoro attenzione dedizione di accedere a delle alternative i miei nonni erano dei contadini e potevano rimanere dei contadini mio nonno ha fatto la terza media a 19 anni tornato dal fronte come fai a dire che io ho avuto un'infanzia o una gioventù più difficile di uno nato nel 15 orfano fra l'altro perché suo padre è morto di febbre gialla in una trincea nella prima guerra mondiale ma di cosa stiamo parlando la sensazione è che la tv fa il suo servizio annuale in cui si demonizzano i giochi le persone con un brusco di conoscenza si indignano ma questi infronti non si incontrano mai ma guarda che secondo me è ancora peggio perché è un po' come quando potevano fare la legge per limitare internet cioè questa qui fanno leggi questi normano cose ma vadano a far leggi sulle gigantesche evasioni fiscali che c'è stata per anni sull'import dei kickstarter andiamo a recuperare i miliardi all'estero andiamo a vedere tutti gli sprechi nella sanità andiamo a vedere queste cose qua invece di pensare a stesse gate madonna cioè se fosse solo un pur parler è che poi fanno emendamenti fanno leggi fanno perdere giorni interi in parlamento e in senato dove anziché fare una riforma sensata sul lavoro sulla fiscalità sull'occupazione sulla formazione sulla scuola tutto il parlamento e tutto il senato si riunisce intorno a queste idee ragazzi non possiamo più fare un discorso qualunquista del eh vabbè ma tanto è sempre stato così eh vabbè ma tanto che cambia non è accettabile dobbiamo prendere coscienza che queste cose sono di una gravità devastante devastante non hanno argomenti ma più che altro non gli interessa neanche fare un dibattito è solo ha una pubblicità per il libro due un'occasione per ribadire il concetto e prendere voti dal folto gruppo di gente che la pensa così e li vota dal folto gruppo che la pensa così e li vota virgola e che quindi conferisce loro il potere di creare delle norme che quando va bene sono solo inutili hanno fatto perdere tempo alla competitività della nazione quando va male ce la ritirano anche dove non batte il sole fa anche rima te la disso in rap i miavi lo dicevano già millenni fa pan metron ariston tutto ciò che è misurato è ottimo sapete come si chiamano i medicinali in greco farmaco parola che significa il contempo medicinale e veleno meditiamo gente però la domanda che mi viene spontanea è la sequente perché tinalberi Mario quando questi muoiono quando questa classe politica giornalistica andrà in pezzone ci saremo noi non vedrai più queste cose si sperano non è vero perché questo è un modo di pensare è quello che stavo dicendo anche a Giulia prima a Michele prima non è un fatto generazionale non è un fatto generazionale io conosco dei trentenni che la pensano così poi si sono fissi su Instagram a farsi selfie mossi ma non è non è un fatto generazionale non è il vecchio che dice al giovane che è così questo è un è uno stato culturale di una nazione che è perennemente indietro nel comprendere che cosa accade nel mondo è il giornalista di trentanove quarant'anni che dice a Samantha Cristoforetti ma se vai sulla stazione orbitale se vai affanculo nello spazio ai tuoi figli chi ci pensa perché la donna deve stare a casa e guardare i figli non è un fatto generazionale è un fatto culturale culturale è un fatto culturale cioè mi spiego meglio è un fatto di totale assenza di cultura di questo paese di ignoranza qui bisognerebbe citare area of effect sgarbi che odio da molti punti di vista ma capre 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 qui ci sta da dio è un fatto generazionale Mario per forza che la penserà così nel 2100 vivrà in una riserva lo chiameremo mormone io la penso così anzi la voglio pensare così se non mi sparo lo capisco che sia consolatorio Nick ma il motivo per cui la generazione precedente alla nostra è alla canna del gas e ora la generazione degli anni 80 è alla canna del gas e ci stiamo mettendo la 90 la 2000 la 2010 a quale generazione dobbiamo arrivare a renderci conto che se non revertiamo completamente i processi di formazione e la cultura in questo cazzo di paese non se ne esce non se ne esce signori galoppa il debito pubblico crolla il pil l'ignoranza dilaga e nonostante siamo un paese benestante tutto sommato lontano dalla guerra eppure lo vediamo cosa ci succede intorno nonostante questo siamo praticamente incapaci di crescere praticamente incapaci di evolverci la miglior speranza che diamo a un giovane di oggi in Italia è vattene a fanculo da questo paese ma vi sembra normale? ma vi sembra normale? cioè andiamo avanti con leggi della scuola ferme al 1940 non riusciamo a capire che cosa ci sta succedendo in termini di blockchain di NFT di criptovalute di kickstarter di crowdfund di hedge fund non capiamo più niente siamo fermi al bancarismo al lobbismo siamo una società del 1800 siamo una società del 1800 con la donna che deve stare in casa a guardare i figli non può certo diventare la più importante astronauta del cazzo di pianeta Terra perché queste sono le domande che fanno i giornalisti italiani cioè non le chiedono come si sta preparando fisicamente e mentalmente a dopo sette anni un ennesimo volo spaziale questa volta con una compagnia privata che ha lanciato un missile nello spazio per 12 volte di fila lo stesso missile no le chiedono che ci pensi figli eh dai ma di che parliamo prima pensavo che fosse il giornalista a fare le domande che avrebbe voluto fare il pubblico e quindi non fosse ignorante lui ma lo facesse per contratto ora mi convinco se vi più che sono i giornalisti stessi a essere fermi a 50 anni fa i giornalisti non esistono ragazzi la prima definizione giornalista dovrebbe essere uno che fa le domande questi non fanno mai le domande non chiedono nulla li fanno parlare e ridono dai su che presa per il culo dai cosa vuol dire questa roba cosa vuol dire questa roba cosa vuol dire questa roba da quando è entrato sono aumentate tutte le malattie i suicidi le depresi tutto che correlazione è che correlazione c'è dove sono dove sono le prove scientifiche che correllano i due eventi perché non li ha la giornalista doveva dire ah si mi spiega quali sono le prove che correllano i due eventi cosa è successo da quando sono uscite le prime console di videogiochi come le definisce sto tizio dal commodore 64 sono passati 30 anni in 30 anni pensate a un'invenzione la tesla è da quando ci sono le macchine elettriche è aumentata la depressione allora dai cangini su rispondimi così doveva fare la giornalista da 30 anni ci sono anche le tesla anche le macchine elettriche avranno fatto aumentare anche loro la depressione vi torna? non lo so c'è queste cose qui ce le insegnano a matematica in seconda elementare le correlazioni causa-effetto la logica di base ragazzi è come è come la correlazione vaccino-autismo questa è come mio cugino una volta mi ha detto lo capite che questo è un senatore va in televisione davanti a una giornalista a un'ente televisiva a una redazione e dice questa frase ve la faccio risentire tutte le malattie quindi capite cioè la correlazione è tutte le malattie sono aumentate quando ma non si fa mica così non si fa mica così non si conduce così un'indagine scientifica ma chi gliel'ha insegnata a Cangini ma i massimi esperti di cui parla ma dove l'hanno presa la laurea o il titolo di studio su Topolino il mercoledì con l'inserto del Corriere della Repubblica del Corriere della Repubblica della Repubblica com'è possibile le correlazioni devono provare un'evidenza devo prendere un campione attendibile devo prendere un doppio cieco attendibile e devo fare dei test e valutare se il nuovo depresso è depresso a differenza dell'altro per questo motivo ma di cosa stiamo parlando ma poi cosa parla dal 2007 è entrato lo smartphone c'erano sì c'erano i primi HTC se ve li ricordate ma non c'avevi manco la connessione non esistevano praticamente i social ma cosa sta dicendo in Italia vi dico ma cosa sta dicendo non c'è non c'è un fondamento in quello che dice non c'è una cosa che abbia un senso autolesionismo in crescita basta Mario se così tocca dargli ragione ma prima di dargli ragione mi spacco bottiglia mi videogioco da quando ne ho 6 peccato per lui che ora ne ho 43 non ho mai ucciso nessuno né mi sono suicidata ti senti con malattie mentali in crescita autolesionismo in crescita Tania ma poi che vuol dire ma sicuramente ci sarà qualcuno che videogioca e ha dei disturbi mentali e quindi allora cominciamo ad esempio a far capire che andare dallo psicologo è come andare dall'ortopedico smettiamo di far passare i problemi di natura psichica e psicologica come dei problemi da bullizzare o da tutte le varie credenze tutte le varie superstizioni lo psicologo quando uno sta male è depresso e ha una situazione di stress è un dottore al pari di un ortopedico che ti cura una gamba rotta iniziamo a trasmettere questo messaggio nell'Italia dei paesi dove si pensa che chi va dallo psicologo è un matto è uno sfigato anziché dire ste stronzate solo perché prima non se ne parlava e non che adesso avere bisogno di un supporto psicologico sia facile guai a dirlo se è un debole appunto trapola appunto cominciamo a fare dei servizi pubblici sul Tg1 che spieghino l'importanza di farsi curare anche a livello psicologico perché siamo esseri complessi e la mente fa parte del nostro essere viventi e quindi deve essere curata al pari di ogni altro aspetto della nostra vita con relazione a Tg da quando la playstation è in casa della gente lo scioglimento dei ghiacci si è impegnato chiaramente colpa dei videogiochi mi sembra evidente beh ma anche Razzi è senatore quindi devo essere contento cioè le Iene ci scherzano su Razzi ci scherzava Striscia ci scherzavano tutte queste cose ma non c'è da scherzarci su Razzi ragazzi non c'è da scherzarci perché purtroppo di gente così queste persone qui sono quelle che scrivono sì o no sotto un emendamento sotto una legge sono quelli che decidono del nostro futuro e per anni perché poi non è facile modificare quello che è stato fatto il problema è passato da essere il web prima i videogiochi poi ora lo smartphone si vede che non sa di cosa parla esatto il web massimo esperto di questo ma soprattutto chiacchiere nel 2007 aveva uno smartphone appunto su una cosa però devo essere sincero un po' mi spaventa il nostro mondo per quanto riguarda la tecnologia cioè vedi il padre che per far zitto il figlio in pizzeria lo ipnotizza col tablet è uguale è uguale Nick se non aveva il tablet gli dava un giocattolo gli dava una pedata nel culo e lo mandava in giardino abbiamo idealizzato che giocare con gli amici in giardino fosse meglio che cattarci su un dispositivo solo perché riconduciamo a sano ciò che veniva prima e malato ciò che non capiamo e che adesso il genitore assente nei confronti dei figli era assente nel 1919 come è assente nel 2022 è solo un pessimo genitore punto non c'entrano nulla le tecnologie è solo un altro modo che ha a disposizione per parcheggiare suo figlio e l'avrebbe parcheggiato lo stesso in altri modi un genitore che fa schifo fa schifo fine stop non c'è nessuna tecnologia che giustifichi un genitore che fa schifo non c'è nessuna tecnologia un genitore che fa il genitore sa come dosare l'intrattenimento l'educazione il riposo l'alimentazione dei suoi figli punto se lo parcheggia davanti a uno smartphone e basta e non gli fornisce gli strumenti per comprendere che cosa sta facendo non è un genitore è un criminale fra l'altro per andare sui social network se si è minorenni o sotto 16 non ricordo serve l'autorizzazione esplicita di un genitore se questi si registrano un account il genitore non controlla il genitore dovrebbe incontrare un giudice ai servizi sociali per abbandono di minore a mio avviso punto non c'entra nulla la tecnologia non dobbiamo tornare all'età del fuoco nella caverna perché i genitori oggi non sanno educare dobbiamo insegnare ai genitori come si fa il genitore facciamo dei servizi al tg di questo tipo qua anziché raccontare sta roba che poi certe malattie mentali e psicologiche dice che sono in aumento ma molti di queste malattie anni fa non si conoscevano e comunque non venivano neanche ricercate e diagnosticate appunto fino a qualche anno fa l'autismo era una malattia per esempio non era una condizione no? non si capiva nulla si davano gli psicofarmaci per gli autistici non si sapeva come funzionava oggi grazie anche alle tecnologie si sa di più si previene di più si comprende prima i nostri nonni che ritornavano dal fronte sicuramente ritornavano con problemi psicologici lasciati alla guerra ma non venivano diagnosticati e curati ma scherzi i problemi psicologici sono sempre stati semplicemente oggi c'è più attenzione a questi problemi non risulta più ma non solo ci sono le banche dati diciamogli al signor Cangini che prima non c'erano banche dati è ovvio che quando inizia a misurare il dato i momenti più recenti e i dati più recenti sono sempre più attendibili perché sono più efficienti i metodi di misurazione no? ma non c'è iniziato nulla la recente pandemia su come si fanno le statistiche ma di cosa stiamo parlando? è ovvio che migliorando tecnologie data entry velocità di comunicazione si riescono a raccogliere dati a studiarli meglio anche che e è come dici te è esattamente come dici te Willy ma anche che anche che fossero uguali o anche crescita ai livelli di malattia come dice lui i livelli di malattia poi cosa vuol dire non si sa gli strumenti di monitoraggio e di iscrizione in banche dati e la loro consultabilità oggi è livelli mai esistiti prima perché esiste internet ragazzi e quindi più ASL si possono mettere in contatto e fare scambio di dati più aziende sanitarie nel mondo l'OMS quindi si riesce a raccogliere più dati e fare cose più intelligenti e quindi si possono rilevare statistiche che avranno senso comparate di qui ai prossimi dieci anni però non con anni in cui c'era uno che lo scriveva su un foglio e se lo portava e lo consegnava bene se se lo scordava pace e c'è delle intere aree grigie dove non ci abbiamo delle zone in Italia dove non abbiamo un censimento anagrafico attendibile nel 2022 ce l'avevano i Savoia prima del web il problema era la tv prima della tv la radio esatto poi era la cultura americana poi era la cultura giapponese poi era la cultura il problema è sempre di qualcun altro il problema ci avete fatto caso questi hanno il potere legislativo questi hanno il potere di fare le leggi e la colpa è sempre dei governi precedenti è sempre di quello che sta dall'altro capo del mondo è sempre della tecnologia che non capiscono dove vogliamo andare io voglio sapere dove vogliamo andare lo voglio sapere sono a bordo di questa nave pago il biglietto lo pago profumatamente perché pago uno schianto di tasse l'anno con l'azienda e con me personalmente vorrei sapere questo biglietto dove mi porta a questo punto tutti dovrebbero andare da uno psicologo io ho avuto il coraggio di andarci dopo due anni di crisi di panico ti pare normale trapula? cioè lo capisco quello che stai dicendo ma in una società dove dobbiamo demonizzare il web e non spiegare che non si deve avere coraggio di andare allo psicologo ma ci si deve andare esattamente come si va allo pneumologo se si tossisce troppo no dobbiamo arrivare ai limiti forse se si andasse tutti un po' più dallo psicologo tanti di questi problemi sarebbero in remissione la butto lì eh porca miseria io gioco e videogioco da sempre ormai dovrei contare non so 100 malattie mentali ma poi non c'è nessuna correlazione ti potrebbero venire domani 100 malattie mentali come dice questo signore bisogna stabilire il perché per quello i medici devono fare delle diagnosi uno psicologo è uno di quelli che ci mette più tempo a fare una diagnosi tanto è complicata la nostra mente sono arrivati gli esperti del signor dell'onorevole Cangini a dirci che invece siccome sono entrate le console dei videogiochi nella nostra vita basta ho guardato un valore l'ho abbinato a un altro e questo è un metodo scientifico vabbè perché dovrei vergogliani dire che vado dal dentista riferito infatti ti devi preoccupare a dire che vado dal dentista con quel che costa andare dallo psicologo come andare dall'ortopedico ho fatto una strada a questo è vero ma è così ragazzi ma è così il nostro cervello è uno strumento sofisticato di elaborazione di dati molto sofisticato e siccome riesce a elaborare dati in base a un altro milione di fattori a volte si bagga si inceppa si rompe e ha bisogno di qualcuno che ti aiuti a rimettere in ordine i pezzi e riavvii il suo normale funzionamento se ti spezzi un osso di una gamba i frammenti dell'osso vanno a giro per tutto il tessuto della gamba ti devono operare e rimettere a posto quei pezzi se no non cammini più perché non si riesce a capire questa cosa cioè è la base questo è un nesso di causalità effetto questa è una correlazione non questa boiata qua io da bambino ero un soldatino educatissimo e a tavolo per alzare mi dovevo chiedere il permesso o ai miei o al padrone di casa poi crescendo sono diventato una bestia io quando porto al parco mio figlio ne vedo tantissimi bambini lasciati lì senza nessun controllo mentre parla con le altre mamme non è diverso a mettere solo davanti a uno schermo è uguale è uguale è uguale perché se ti parcheggiavano in mezzo a una strada ti davano a bicicletta e ti buttavano in mezzo a una strada e ti andavi a fare casino a spaccare i finestrini in una macchina a suonare i campanelli a rompere i coglioni a magari a una persona che aveva avuto un infarto era stato operato era stato operato a cuore aperto e doveva riposarsi rompevi i coglioni uguale eri comunque un disadattato in qualche modo non c'era nessuna differenza se non sei un buon genitore non sorvegli il comportamento di un minore perché è un tuo obbligo di legge c'è una legge che obbliga i genitori a controllare l'operato dei figli minori c'è una responsabilità civile penale e aggiungerei se sei etica non c'entra nulla avere o non avere uno smartphone se sei un criminale sei un criminale con e senza smartphone mi sogge spontanea una domanda se questo bellissimo servizio televisivo fosse stato fatto negli USA non veniva fatto qualche piccola casa editrice di giochi a tavolo di quelle che fanno 3-4 triliardi al semestre avrebbe denunciato per dare un'immagine alla fine sai che sta dicendo al mondo intero che loro sarebbero dei pusher hai voglia ma in America una roba così non sarebbe mai uscita e io credo di no poi mai dire mai cioè non con questo tono sicuramente l'America da sempre in questi servizi pone il contraddittorio poi che ci siano anche lì personaggi discutibili che vanno a dire queste cose è sicuro quello c'è in tutto il mondo non è che siamo un'eccezione italiana la differenza però la fa la qualità dell'informazione e la divulgazione cioè vedete come si ritorna sempre in tema vedete come si ritorna sempre in tema se vi danno informazioni del cavolo e siete abituati a non pagarle è la cosa bella lo so infatti allacciate le cinture perché il peggio è da venire hanno potere giresi di Dio perché noi che votiamo li mandiamo lì Gaibra c'hai ragione dimmi chi cazzo voto dimmi chi vota le prossime elezioni mi sento già male non dimentichiamo che sono esperti grafologi vabbè ha detto anche psicologi e altri tizi il grafologo vi giuro non ho capito a cosa servisse se mi fa una perizia a me il grafologo ragazzi e stabilisce una correlazione in questo modo è finita perché io scrivo che nemmeno un bambino di 4 anni che non sa ancora scrivere a mano libera comunque meno male che ho smesso di videogiocare a liceo chissà quante malattie mentali avrei adesso almeno 3 chili perché qui vanno al chilo le malattie mentali quindi se siamo per il discorso c'è anche la sensibilità comune e l'impegno sociale politico dell'importanza del voto è vero è vero Gaibra è vero io sono d'accordo poi vengo tacciata come genitore apprensivo lo so perché poi è un po' quello che si diceva oggi a pranzo c'è c'è questa redaccio alla media se tutti i genitori scaricano il figlio sullo smartphone te non lo fai li fai sembrare diversi e quindi ti escludono dalla conversazione o rivertono su di te il problema ma questa cosa è paradossale ragazzi ieri ieri sera io e mia moglie ci siamo concessi il lusso dopo sette mesi di reclusione perché avendo un'azienda non ci potevamo permettere il covid però dopo sette mesi di totale reclusione ci siamo concessi il lusso di andare a un piccolo centro termale in provincia di Pisa San Giuliano ok per un doposcena ok tre ore anche perché sia mia moglie che io abbiamo un problema fisico che c'è stato diagnosticato l'anno scorso piccolo lei ha un'epicondilite bilaterale ai gomiti io ho una protusione cerpicale e quindi c'è stato consigliato sia dai nostri fisioterapisti che devono essere ortopedici di fare acqua calda e idromassaggio in quelle zone per facilitare le terapie che stiamo facendo eravamo circa trenta coppie presenti in questo grande stabilimento una sola coppia non aveva la mascherina nessuno ha avuto il coraggio di dirgli niente io sono stato trattenuto però siccome ho un solo modo di reagire alla vita e ormai mi doveste conoscere sono abbastanza tranciante se andavo avanti poi dovevo venire via quindi per la salute di mia moglie e anche la mia mi sono alzato e mi sono allontanato il più possibile dalla zona dove mi trovavo per non incontrarli detto questo non va bene ma sono sicuro che se avessimo detto qualcosa il problema sarebbe diventato chi ha detto qualcosa non il fatto che questi due stronzi in piena pandemia stavano in un luogo chiuso con altre 30 coppie rispettose della legge fottendosene allegramente del regolamento dello stabilimento è ancora più grave che nessuno gliel'abbia fatto presente della struttura e di questa cosa però non ci sono passato sopra mettiamola così andiamo avanti a me personalmente poi giocare ai videogames e nell'ultimo anno anche ai videogiochi serve tantissimo per staccare la mente e non pensare alla quotidianità e al lavoro ne sento necessità proprio per staccare come la passeggiata in pausa pranzo ma infatti ma non solo gran parte dei videogiochi hanno non solo un valore terapeutico ampiamente dimostrato ma possono anche educare possono migliorare i sensi la coordinazione occhio mano alcuni aspetti emotivi culturali relazionali guardate che i videogiochi online sono a tutti gli effetti ad esempio forme di sport hanno le stesse caratteristiche tantissime caratteristiche comuni a uno sport competitivo ma chi l'ha detto che la partita a calcetto con gli amici sia più sana di una partita a fortnite con gli amici ma chi l'ha detto ma dove stanno le prove dov'è la scienza che dice questo la scienza semmai dice il contrario ciao mad benvenuto comunque raga scherzo a parte ma se si candidasse a marione come premier voi lo votereste non mi potete votare nick non si può votare il premier si vota il parlamento voi lo votereste si cacchio ho già lo slogan yes we play però bello lo slogan che faccio signor lascio vuoi dire che anche qui essendo gratis l'informazione è del cavolo si sai quanti voti mario non credo tanti nick ho opinioni abbastanza impopolari vedi che i nostri soldi gli servono a qualcosa all'elementare mio figlio era l'unico a essere senza smartphone non ti dico che gli altri genitori quante volte ci hanno detto ma perché perché ma poi capito anche lì è il come lo usano è il come li educhi all'utilizzo è il come li sorvegli nell'utilizzo puoi dargli lo smartphone ma non lo porti a scuola ci puoi giocare un'ora al pomeriggio perché ci sono i giochini carini lo puoi usare come strumento per fare le ricerche se hai bisogno mentre sei lì con il librino di fare una ricerca su google e trovare un riferimento una data una fonte questo non è il male è l'uso che se ne fa che è a essere il male da ex capo scout dice The Dege ciao benvenuto The Dege devo dire che credo che sia molto educativo lasciare un po' di autonomia ai ragazzi però va fatto nei tempi e nei modi giusti non parcheggiando i figli con lo smartphone l'autonomia l'autonomia deve non può deve essere sempre preceduta dall'ottenere strumenti che generino consapevolezza se no non è autonomia se no è stato brado è rischioso vuoi dare autonomia a tuo figlio? spiegagli prima le cose fagli capire dove è il nero e dove è il bianco e poi lascialo operare autonomamente mantenendo però una vigilanza l'autonomia non è anarchia non è assenza di controllo è poter determinare le proprie scelte per poter determinare le proprie scelte si deve avere consapevolezza di che cosa comportano quelle scelte detto questo ci deve essere comunque sorveglianza io sono un cittadino autonomo posso bere questa birra mi è consentito dallo Stato posso fare questa live mi è consentito dallo Stato posso uscire di casa e fare una passeggiata sono autonomo detto questo c'è una polizia c'è un sistema giudiziario che sorveglia il mio comportamento sono autonomo e sono controllato ma infatti perché la struttura non ha detto nulla vabbè eh perché e vuoi mettere ripassare la guerra fredda con Twilight Struggle l'ho pensato anch'io ci vorrebbe ci dovrebbe essere la sorveglianza per quanto ci dovrebbe essere educazione ma non c'è più ma non c'è educazione perché non si abitua non si abitua a creare correlazione fra causa e effetto perché de-responsabilizziamo completamente le generazioni la mia generazione è stata tante volte de-responsabilizzata continuiamo a de-responsabilizzare non c'è più rispetto perché non si capisce l'effetto delle proprie azioni non si capisce non si riesce a correlare causa e effetto quindi si dà questa autonomia presunta senza strumenti la persona il bambino il ragazzo l'adulto si comportano non avendo chiare le conseguenze perché se oggi prendi un 4 a scuola fanno causa all'insegnante fanno causa all'insegnante io ho un sacco di amici che sono professori e mi dicono questo dico do il 6 perché se do 4 è una guerra che mi devo rompere i coglioni tanto poi nella vita non combinerà niente è vero mia figlia a instagram ha mai il tempo stabilito ed ha il sacquanto sul mio telefono giusto finché è minorenne è giusto ma questa cosa che fai chiara dovrebbe essere la normalità perché il genitore ha l'obbligo di legge di vigilare sui suoi figli ci sono dei genitori che credono che questo sia stalking ma di cosa parliamo quando ero piccolo avevo anche io il super nintendo a tempo spesso si demonizza lo strumento ma il genitore che non educa il bambino Mario ma del roll and write to light imperium ne vogliamo parlare dai ragazzi non scherziamo quella è una barzelletta e che ci vuole a cambiare sistema Mario vive il presidenzialismo ma solo se ti candidi ma che poi una versione simile di considerazione uscisse un gioia tre anni fa riguarda GDR quello è un altro argomento topico sono ciclici i genitori ignoranti non è colpa vostra e vi gioco il ruolo internet eccetera che è cattivo coso con i giochi non è che lo chiamo coso perché si chiama coso settordici non è che ne do con i giochi in Romagna si fanno attività rieducative nelle carceri con i videogiochi si fanno corsi formazioni primo soccorso che aiutano a salvare le vite come fa nella penisola a coesistere queste ignoranze eleganti e progetti così lungimiranti perché è una penisola io ne sono fortemente convinto di persone incredibili governate da incapace perché abbiamo un sistema elettorale che non permette di far emergere persone capaci abbiamo un sistema di partiti che pumisce le persone capaci e avvantaggia le persone incapaci e fino a quando non cambieremo il sistema elettorale sarà sempre uno schifo sarà sempre più uno schifo purtroppo non sono la stronza quella che non lascia libertà fan culo le tue amiche ma il tu chiara massima stima per te allora andiamo avanti con questa roba orrenda per favore ma da chi ma da chi ma poi ma l'avete mai fatto un test del cui ma il test del cui possiamo possiamo sfatare un altro mito che il test del cui è una boiata pazzesca lo possiamo sfatare questo mito ragazzi l'intelligenza il quoziente intellettivo cioè il metro con cui si misura l'intelligenza ma se sono decenni che psicologi pedagogici come cazzo si dice pedagogi pedagoghi pedagoghi vabbè avete capito insegnanti ci spiegano che non esiste un'unica intelligenza come fai a stabilire un numero per una cosa che non è unica questa è la base della matematica posso dire che questa è una bottiglia di birra è un contenitore ma non posso dire che è anche cinque automobili perché non è un'automobile se esistono più intelligenze cioè più modi di relazione a problemi situazioni il cui il test dei quadrati dei rombi dei colcolini delle segate non vale niente che test stiamo facendo stiamo facendo dei test basati sul calcolo del quoziente intellettivo basato sui programmi scolastici del 1950 45 47 ragazzi ma cosa ci stanno raccontando ci sono persone di un'intelligenza artistica creativa musicale umana incredibile che non saprebbero riconoscere un triangolo da un quadrato e hanno un potere di correlare causa-effetto superiore a un matematico che riesce a fare la radice quadrata di 7.947 a mente non vuol dire un cazzo quel quoziente intellettivo io voglio capire che persone sono questi giovani cosa pensano che valori hanno che cosa saranno in grado di fare domani per questa umanità le risorse nuove le persone nuove sono quelle che innoveranno il nostro futuro sono gli Elon Musk del futuro che ci portano su Marte quando qui non ci sarà più una sega da spartirsi di risorse e di spazi sono quelli che inventano nuovi peacemaker esterni quelli che avete visto che hanno inventato un sistema che lo applicano sul fegato emette ultrasuoni e ti dà una chance di curare il tumore al fegato non è ancora dimostrato che funzioni iniziano la sperimentazione sui topi credo però questo serve capire non se sai riconoscere il triangolo il pallino il quadrato il giallo il verde e tutte quelle boiate da qui conosco gente la conosco per davvero che ha secondo quel qui un quoziente altissimo e mamma mia mamma mia che odio stavo leggendo la chat qualcosa la salto ragazzi perché ce la posso fa mia madre ered in parte è molto vecchio stampo di quelle che danno corda a questi programmi di rai purtroppo molto male Emanuele shame on you shame on you no ma shame on your family in this moment right now non sapete quanto è la mentale per il gioco come se il gioco fosse il male superiore del mondo mentre la fatica fosse la vera vita si sono quelli che ti dicono ma perché non vai a lavorare la terra ma te l'hai mai lavorata la terra ma l'hai mai lavorata te la terra fortuna che ora oltre a 60 anni con un figlio che ha 30 anni non solo gioca ma inventa giochi abbia in parte cambiato idee per la prima volta in vita sua qualche mese qualche mese fa abbia deciso di provare un gioco non senza timore incredibile vero la demonizzazione del gioco passa da questa roba qua poi curioso aggiungerei un'altra correlazione che vorrei suggerire allegreggio dottor giornalista filosofo scienziato correlatore onorevole cangini negli ultimi 30 anni sono dilagate le slot machine onorevole in tutti i cazzo di barra d'italia sono dilagati gratte e vinci turista per caso vinci 10.000 euro al mese quelli cosa sono quelli non causano problemi psicologici vero la dipendenza al gioco d'azzardo va bene quella va bene quella non ci si fa al servizio sopra vero non ce lo fa coca grattino vero coca tassa sui sogni un conto il cui un conto l'intelligenza sociale e relazionale come sempre informazione parziale e faziosa non solo parziale e faziosa stupida questa è proprio stupida la tv generalista abbassata e abbassa il quid della propria utenza con le dovute eccezioni 92 minuti di applausi ripeto sono applausi che non vorrei in questa circostanza il mio responsabile lavoro ha regalato per Natale lo smartphone alla figlia seconda media impostato con parente al controllo dopo due giorni ha tolto perché che palo ogni volta che fa qualcosa mi arriva la notifica io così vale a dire a tutti a tutti quelli scritti al mensa o come chiavolo si chiama non lo so al mensa non lo conosco cioè lo conosco ma non so cosa faccio Mario secondo te in un futuro prossimo potrebbe nascere un partito italiano dal basso stile Movimento 5 Stelle grazie a nuovi mezzi di informazione come appunto Twitch ma io non lo voglio il movimento dal basso a me mi hanno rotto i movimenti dal basso io non sono più ero di sinistra una sinistra ideologica ripeto una sinistra di valori non sono più di nessun partito italiano ma non voglio partiti dal basso io non ci credo che il macellaio è bravo a fare le leggi per la sanità io ci credo che il macellaio è bravissimo a farmi le bistecche e me le deve fare da Dio perché è il suo lavoro io voglio un'elite di gente illuminata che prende decisioni che non capisco e che poi mi fanno stare bene questo voglio da un governo e da un Parlamento voglio un'elite di gente illuminata davvero che ha un grado di capire l'universo assurdo che attua delle decisioni che quando le vedo dico ma come si fa a interpretare quello che ha detto non lo voglio nemmeno capire quello che mi dice l'importante è che la decisione che prende mi faccia stare meglio io voglio gente che mi dice dobbiamo andare su Marte perché fidati e quando ci andiamo stiamo meglio mi dice da domani fanculo al petrolio tutti con le macchine elettriche il primo che ha macchina elettrica stiaffi perché perché calano i tumori scemo la trovi su Rai 1 podcast on cast se no se cerchi su youtube tg1 contro i videogiochi questo del cui è lo stesso discorso che porta a pensare che chi sceglie istituti tecnici o liceo artistici è meno intelligente chi fa il classico o scientifico spoiler no fra l'altro io sono mi reputo un piccolo testimone di questo perché ho fatto il liceo classico e ho fatto economia entrambi con estremo profitto e mi rendo conto che cose che ho studiato in tema umanistico a liceo classico sono oro colato nella mia crescita personale che non scambierai per un esame di economia mai cioè se mi dicessero vuoi tenerti il diploma o la laurea il diploma e resetterei tutta la laurea piuttosto non lo farei volentieri perché io ho adorato studiare economia ma se mi dovessero dire cancella un pezzo della tua vita vuoi cancellare il liceo classico o cancellare l'università scientifica cancellerei senza dubbio l'università scientifica perché le soft skill sono incredibilmente più importanti delle hard skill ma un lavoro vero quando lo trovi brava Giulia ma lo sai perché la correlazione Giulia? perché non siamo più capaci di dare valore a quel tipo di cosa lì non siamo più capaci oggi è tutto quantitativo quindi se non fai un mestiere quantitativo non sei nessuno non è un paese che riconosce la ricerca l'ingegno la creatività l'emozionalità non è un paese meritocratico che dà valore a un merito qualunque esso sia vale anche nella scelta dell'università sempre conta più lì mai il valore di quello che sto dicendo mio figlio fa ingegneria e quindi Maccangini avrà l'account Twitch non lo so spero di no non credo e no qui mi offendo ora nel mio bar in 14 anni sono entrati a manetta per farmi mettere le slot sono arrivati pure a promettermi lo stipendio della dipendente anche se lo slot non veniva usata non li ho mai messi e mai mi fanno vomitare ma te sei bravo Nick però al telegiornale dell'effetto delle slot non ne parlano fiero che siano proprietari di bar che ragionano come te in questo paese anche noi siamo molto fieri del nostro Nick andiamo avanti gente andiamo avanti a stare male Silvia ti odio in questo momento non è vero non ce la faccio adiarti però ti odio nella storia dell'um o io non ce la faccio a fargli fare un secondo senza prenderlo a schiaffi morali nella storia dell'umanità perché lui ha i tabulati del cui degli antichi romani lui ha il cui calcolato con i metodi di oggi dell'uomo del rinascimento del Lorenzaccio ha il cui di Leonardo da Vinci nella storia dell'umanità ragazzi la storia dell'umanità è da quando l'uomo ha preso la clava per la prima volta e ha randellato qualcosa quindi nella storia dell'umanità il bambino di oggi perché usa lo smartphone è più scemo secondo lui perché questa è la definizione che è il messaggio che vuol dire è più scemo dell'uomo sapiens sapiens e anche dell'uomo sapiens perché è un essere umano anche lui ma io ma è la giornalista ride è la giornalista ride tilt ma chi la ma così evidente cosa non hai dato un'evidenza così evidente cosa ma poi vuoi fare vuoi governare i giovani vogliamo fare una riforma del lavoro che non faccia ridere iniziamo a governarli sul loro futuro invece di preoccuparsi come si divertono cominciamo a valorizzare le nuove imprese che io porca puttana ho 38 anni e per avere un'impresa in questo cazzo di paese mi sembra di scalare a levare sta a mani nude parliamo di questo cangini onorevole dai ma ride ride ma cosa ridi guardate la faccia guardate la faccia guardate ride ride hai visto l'ho detto bene è il dovere della politica governare che sto fatta questo amico lettore sintesi tuo nipote è drogato è peggio della cocaina sta roba sai che succede perché gliel'hai regalata te la playstation votami che li governo e la faccio passare io e la ruzza a questi così tuo figlio sarà disoccupato dipendente dalle slot machine depresso e senza videogiochi ce la fa vedere lui come si fa in Italia e lei ride non lo sa nessuno perché dietro ci sono le foto della guerra perché crea tutto crea più più dolore non lo so ma cosa vuol dire ma cosa vuol dire sembrano delle banalità signora giornalista come cazzo si chiama questa tizia mi trovate il nome di questa qui sembrano delle banalità lo sai perché sembrano delle banalità perché sono delle banalità boom sono delle banalità ci si guarda si guarda lo smartphone vuoto no io guardo lo smartphone spento si guarda una realtà presente sullo smartphone che semplicemente non è la realtà che ci circonda perché l'essere umano signora giornalista da diversi anni è un essere umano cyborg cioè innestato con la macchina con la tecnologia sì signora giornalista e sì ci possiamo documentare informare in tempo reale su tutta l'esistenza tutto il creato tutto il conosciuto quello che vi pare con un pezzo tecnologico che è disponibile ai nostri umani siamo potenzialmente il miglior essere umano dal punto di vista cognitivo della storia dell'umanità perché abbiamo a disposizione la più grande banca dati della storia che detiene tutta la cazzo di conoscenza del mondo in mano se non so accendere un fuoco e sono in un cazzo di bosco apro youtube e scrivo come accendo un fuoco e lo accendo nel 1910 se non lo sapevi fare non lo sapevi fare punto non è detto che devi leggere un libro puoi leggere un ebook puoi guardare centinaia di video di formazione non tutte le persone imparano sui libri io imparo sui libri ma non è detto che io che imparo sui libri utilizzi lo stesso metodo di apprendimento di altre persone questo è il sistema schifoso della scuola italiana dove 30 figli completamente diversi 30 bambini completamente diversi vengono buttati in una classe e devono essere giudicati tutti con lo stesso cazzo di metro eh lo sapevo lo sapevo la tecnologia digitale onorevole cangini è entrata prima da loro che da noi perché quando avevamo Olivetti in Italia l'avete fatta distruggere perché non è possibile fare imprese innovative in Italia onorevole cangini perché con una pressione fiscale che supera la pari delle aziende il break even delle aziende come cazzo fai in Italia a inventare la tecnologia come cazzo fai a essere leader chi l'ha studiata la fibra ottica per prima Italia chi è stato prima a stendere la fibra ottica nel mondo ma di cosa parliamo ma di cosa parliamo abbiamo centri di eccellenza e la totale inca centri di ricerca di eccellenza e la totale incapacità di trasformare la ricerca in attività concreta industriale produttiva artigianale perché non abbiamo un sistema di lavoro e di industria privata che funzioni perché siamo fermi alle banche di Cristoforo Colombo perché si vive di indebitamento in Italia non esistono venture capital non esiste finanza innovativa abbiamo un sistema di tassazione completamente sbagliato che premia le multinazionali estere e punisce le aziende italiane non c'è nessun incentivo reale per i giovani sono tutte cazzate assumere un dipendente è peggio che prendersi un mutuo a casa e dobbiamo e dobbiamo sempre di più lavorare in proprio perché non c'è lavoro in Italia ma di cosa parla di cosa parla milioni di ragazzi in cura quanti milioni di giovani ci sono in Italia la noma parla della Corea ora milioni di ragazzi in cura in Corea ma si rende conto che questo compara il plaudente viziato paese Italia con posti dove esistono le mamme drago in Giappone vengono chiamate mamme drago perché impongono uno stile educativo e di ambizione professionale ai propri figli al limite del suicidio secondo lui in quei posti lì il problema psicologico è causato da quanti ore passano a giocare a Lost Ark o al fatto che se perdono il lavoro vanno a fare harakiri sul tetto di un grattacielo ma di cosa parla tweet di Cangiri guarda proprio libro il libro raccoglie gli interventi degli esperti auditi in commissione istruzione del senato commissione le commissioni le commissioni parlamentari sono la rovina del paese tatuatevelo sul braccio questa cosa io purtroppo leggo solo due tipologie di libri horror e inchieste ma infatti ma anche questa celebrazione di chi legge tanto è meglio degli altri ma chi l'ha detto ma se leggo centomila romanzi rosa sono meglio degli altri ma se leggo 3000 volte talkie non sono meglio degli altri dobbiamo misurare la capacità di apprendimento la capacità di apprendimento io posso dire tranquillamente che avendo una memoria della madonna ed è una dote non l'ho allenata sono nato così ho vissuto tanto di rendita nel percorso scolastico italiano perché mi ricordavo tutto quello che diceva il professore e il professore generalmente ti interroga ti fa i compiti su quello che ha detto ma tante cose le ho dovute ristudiare dopo perché quel sistema non era sufficiente in termini di apprendimento non è detto che chi legge sia meglio di chi non legge semplicemente abbiamo percorsi di apprendimento diversi è che la scuola italiana che ferma la seconda guerra mondiale ha un sistema di istruzione che è fallimentare perché fa media delle persone chi prende 8 a scuola o 9 a scuola e io sono uscito con 100 centesimi al liceo classico e con 110 lode a economia quindi sono titolato non sto rosicando ma il mio 100 a scuola è solo perché io ero perfetto per quel tipo di insegnamento non sono mai stato migliore dei miei compagni mai ve lo posso assicurare avevano un sistema di apprendimento che non era premiato da quel sistema scolastico punto quel sistema scolastico era ben progettato per me ho avuto culo diciamoci la verità non sono stato più bravo degli altri ho avuto culo comunque basterebbe guardare i risultati la ricerca la tecnologia la salute l'intelligenza artificiale qualunque altro settore è in continuo sviluppo all'estero aggiungerei se ci fossero tutti questi problemi di intelligenza com'è possibile questo continuo miglioramento ma infatti è una cazzata quando è una cazzata ci vuole un giornalista o un contraddittore che ti dica ma di che? ho comprato più libri da quando segui social c'è anche nei 20 anni precedenti appunto mi sembra mia madre quando al prof di diritto diceva ma se 23 alunni sono andati male due bene mica saranno tutti scemi sarai tu che non sai insegnare ma è così ma è così ora dirà che in America si spara in licee per colpa di GTA ma l'hanno detto un sacco di volte non è che si spara perché acquistare armi è legale capito? c'è qualche politico in italiano applaudito da questa gente che voleva qualche anno fa legalizzare l'utilizzo delle armi da fuoco ve lo ricordate? questo politico come si chiamava? perché potrebbe essere candidato alle prossime elezioni cercate di fare la differenza piuttosto andate in in cabina vomitate sopra quel cazzo di foglio ma metteteci una croce che non sia su quel simbolo per favore io sto zitta non stare zitta Silvia esci esci le emozioni Silvia tenersele fa male milioni di ragazzi in cura ho smesso di scrivere per lo stesso motivo no no scrivete scrivete vi sfogate tanto resta qui fra noi e Twitch e qualche milione di visualizzazioni mal di che se leggi 3000 volte Tolkien ovvio che sei meglio degli altri ma che domande fai in effetti sì questo forse ho preso l'esempio sbagliato ci sono dei libri che se li leggi 3000 volte sei per forza meglio comunque a mio avviso si dovrebbero studiare un po' meglio le guerre puniche vai in culo Nick ciao Diego benvenuto benvenuto brava Tania vedo che hai azzeccato il nome andiamo avanti dai andiamo avanti a stare un altro po' male oh a me la cosa che mi fa più incazzare è che poi guarda in camera e ride è una dipendenza in tutti gli effetti ma se fosse una dipendenza grave ma che cazzo ridi abbiamo il covid guarda ride ma perché si deve staccare da dispositivi il giovane deve sta cercando ma sentite la costruzione del testo di questo cazzo di servizio con lo sfondo di Sarajevo non lo so che sfondo è quello lì lì nel chiostro di una chiesa questo è il giovane questo è il giovane che sta smettendo questo ha almeno la mia età 40 anni poi agli albori del web ragazzi il web agli albori del web negli anni 90 siamo nel 2022 32 anni fa benvenuto Diego agli albori del web la sua dipendenza agli albori del web lui era dipendente quando c'era Mirk Italia quando c'era ICQ con l'ISDN il giovane il giovane con l'ISDN c'è uno qui giovane davvero Giulia che cazzo è un'ISDN mi dici cos'è una ISDN senza cercare su wiki per favore da tanto che è giovane ragazzi ma vi rendete conto che questi questi tizi la giornalista che faceva così con la testa e rideva e l'onorevole col potere legislativo che ha seguito e presiduto una commissione bla 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 dicono che i giovani hanno un quotiente intellettivo più basso qualunque cosa significhi e poi ci danno questa immagine sostenendo che questo dovrebbe dar ragionare le loro ipotesi tanto che sono intelligenti secondo i canoni io non lo so cos'è ecco perché non lo sai perché non lo sai cos'è perché la ISDN è stato un sistema tampone ideato prima dalla SIP quando ancora non esisteva Telecom Italia prima che quella buonanima di un certo D'Alema vendesse il sistema di telecomunicazione nazionale a una società privata a quel sant'uomo e uso centomila virgolette di tronchetti provera svendesse aggiungerei creando il più grande danno nella storia dell'economia italiana fu un sistema tampone perché nel resto del mondo si avevano le connessioni T1 e le connessioni cablate dedicate e in Italia non riuscendo a portare niente più che del vecchio rame ristagnante del 1936 ti mettevano due linee e te le accoppiavano attraverso un sistema di modem e di software e quindi anziché andare a 56 kilobat andai a 128 kilobat kilobat e potevi kilobat era meglio kilobat e potevi kilobit nemmeno kilobat magari kilobat kilobit e potevi avere eventualmente la linea connessa e telefonare senza che ti cascasse internet da tanto che è giovane sto signore 1990 o anteriore giovane 32 anni fa è giovane questo non era giovane nemmeno quando è successa questa cosa io devo ringraziare il CC tutta la vita grazie a questo programma incontrato esplodata a pensare più importante nella mia vita in quel periodo non potevo uscire a casa a causa della mia patologia pensa te no e questo ho appena detto che sei tossica dipendente da cocaina di ACQ eh ma perché non è ancora guarito da allora dai era per dimostrare come fosse impossibile uscire da questa dipendenza ti chiami tigger cut ma ti dovessi chiamare trigger cut guarda la mia tisana è questa Antoine tanto l'uso non potrà che degenerare in abuso quindi vabbè ma questo aveva un altro tipo di problema ragazzi non c'entra nulla se questo non aveva internet si andava a fare d'eroina lo trovavano arrovesciato in un fosso con una siringa nel braccio questo aveva altri problemi poveraccio e la società non gli è stata accanto ha trovato internet e si è chiuso lì dentro ce ne sono migliaia così facciamo delle leggi per aiutare facciamo delle leggi di supporto psicologico facciamo cominciamo a sensibilizzare al problema dell'uso della psicologia e della psichiatria come strumenti di cura personale cioè poi cosa vuol dire non avevo legami sentimentali ci sono persone come diceva Tania che hanno trovato l'amore in chat cosa vuol dire perché se se ti sposi con una che è conosciuta al bar è meglio che se ti sposi con una che è conosciuta su internet ma chi l'ha detta sta cazzata ma chi l'ha detta ma chi cazzo l'ha detta grazie Anna per l'abbonamento grazie e quindi dormivo di giorno e stavo sveglio di notte praticamente la vita di un turnista di un infermiere cioè in che modo questo dovrebbe cioè lui poveraccio non c'ha colpe l'hanno messo in una telecamera hanno detto fai queste camminate importanti nel chiostro di una chiesa che indica molto l'ambiente di recupero perché ci manca anche un pochino di effetto religioso ancora non hanno detto che siamo bestie di satana noi nerd occultori dei dispositivi digitali quindi anche chi fa il pane vive in quel modo infatti c'è una panetteria buonissima di Luca che lavora di notte perché deve preparare i croissant eccezionali che fa per tutti barra di Luca vivevo una vita contraria ma poi anche questa vita dritta ma la vogliamo un po' sfatare ragazzi ma avranno rotto i coglioni con questi orari canonici questa cosa qui questa mediocrità dell'esistenza intesa in modo etimologico cioè vivere in modo medio ha rotto i coglioni ma glielo vogliamo dire a sta gente che hanno rotto i coglioni ma se il mio corpo e la mia mente funzionano meglio di notte ma potrò essere libero di fare il cazzo che mi pare di notte e dormire di giorno ma lo vogliamo dire che in Italia io ho delle persone che per loro stessa ammissione mi hanno dichiarato in azienda che lavorerebbero meglio di notte io non le posso far lavorare di notte anziché di giorno perché i contratti nazionali non lo consentono cioè lo consentono ma richiedono che sia previsto un sistema di turnazione eccetera eccetera ma se se c'è una volontà esplice del dipendente non dico che sia da fare una legge per cui il datore di lavoro può decidere liberamente se farti lavorare di giorno o di notte ma se un dipendente me lo chiede a me torna bene che lui lavori di notte posso farlo lavorare di notte a un prezzo normale se è una scelta sua ripeto non se è una turnazione in fabbrica un lavoro pericoloso che deve essere fatta alla luce del giorno non si può perché abbiamo stabilito che la vita si fa dalle 7 alle 20 dopo è vita notturna e la vita notturna deve essere demonizzata perché non va bene alla chiesa perché non va bene ai vecchi perché non va bene a chi ha paura del freddo e del buio non lo so a chi non va bene ma questa è una cazzata non è una vita contraria stare più svegli di notte le mie idee migliori e ne ho poche mi vengono di notte che cazzo c'è di contrario povero panaio un drogato il panaio per uso non può che finire nell'abuso secondo me seguendo cangini comunque noi ridiamo e scherziamo ma non dovremmo prima scherzare e poi ridere Nick questa la dico sempre ma se mia mamma avesse visto questo servizio mi avrebbe chiamato dicendomi di guardarla e di vedere com'è pericoloso l'internet esatto e lei è una dottoressa dietologa endocrinologa e psicoterapeuta dell'alimentazione estremamente intelligente preparata nel suo ma l'internet è comunque il male per lei a posto e viva il pastaro sono d'accordo Diego la notte escono i ladri cita Vale ti prego non parla di chiesa altrimenti sbrocco guarda se inizio a parlare di chiesa io arrivano le guardie svizzere qui fuori a causa della loro politica sulla sofferenza come espiazione in Italia la terapia del dolore è pura utopia scusate ma è un argomento che mi colpisce molto Tania lo capisco lo capisco molto bene credimi fondamentalmente era un ikikomori è una patologia sì ma è nata prima dell'avvento il piccio di internet esatto una forma di sociopatia estrema ma i sociopatici sono sempre esistiti anzi forse ora magari hanno GTA per sfogarsi e non ammazzano la mamma voglio dire cioè prendetevela con Mario se tramonta il sogno della live horror non mi sorprende infatti mi era triste noi giovani sappiamo un sacco di cose e capiamo un sacco di cose che loro non capiscono ma non ci voglio ascoltare perché per presa di posizione non capiamo un cazzo e non ne posso più però Giulia occhio che non farne mai una questione generazionale cioè questo è l'errore l'ho fatto anch'io dieci anni fa 15 anni fa 20 anni fa di pensare che i vecchi non capiscano i vecchi o quelli più più anziani di te non è sempre così cioè è quella persona che non ti capisce mia nonna di 90 anni ha capito molto meglio di mia madre di 40 perché volessi fare l'imprenditore e mia nonna timorata del posto fisso eh dato che ti stimo tantissimo chiedere alla tua cara mamma la cortesia di una mini dieta per perdere 4 kg purtroppo comincia a comprare cibo di qualità Angelo anziché tutto al discount ammettiamo che nei film horror la notte è male sì effettivamente sì belli però i film horror quelli fatti bene dove c'è paura anche di giorno io vivo quotidianamente il mio lavoro solo perché sono giovane secondo il cliente medio non so nulla e devono insegnarmi a lavorare loro potrebbe diventare un'arma a doppio taglio Mario il datore di lavoro rimane la parte forte nel contratto come possiamo essere sicuri che quel suo vorrei lavorare nella tua sua libera manifestazione di volontà oppure che una legge e già verrebbe sfruttata la teatrica mentalità a discapito dei dipendenti vabbè al solito vigilando però capisci cioè noi contestiamo e questo è però un altro grande dramma italiano che noi contestiamo la possibilità di creare idee valide perché poi non siamo in grado di vigilare su queste idee cioè ammetti che l'idea potrebbe essere buona ma ti preoccupa il datore di lavoro furbo il datore di lavoro furbo lo prendi e lo metti al gabbio fine e dopo non c'è più il datore di lavoro furbo ma la legge furba c'è cominciamo a vessare chi viola la legge amici Giulia no no non faccio tutta la reba un fascio ma in nessun caso tranquillo parlavo per eccessi come sto testina che ha parlato in tv ecco non ti abbassare al suo livello allora mamma mia abbiamo un medaglione e non abbiamo paura di usarlo io comunque non ho impedito nessuna serata horror vorrei però se vi sente cangini i social i messenger di windows vabbè i social i messenger di windows programma di comunicazione peer to peer direct to direct dove devi conoscere l'altra persona se no non ci puoi chattare con i social che invece sono un contenitore di persone quindi questo ammette di avere avuto un problema psicologico grave aveva dolore dentro e lo sfogava sull'utilizzando in modo evidentemente in proprio immagino social smartphone videogiochi eccetera questo aveva un problema psicologico e non è stato aiutato dallo stato e dalla famiglia che cazzo c'entrano le tecnologie oh lo vedete la realtà usare le mani gente perché programmare un software inventare un'app che salva la vita cazzo c'ere vede a tritare le cipolle zappare la terra abitare bulloni in catena di montaggio lavori veri tombini di ghisa non c'ho nulla contro i cuochi io adoro i cuochi sono un addicted i cuochi però capite che il messaggio che sta trasmettendo è completamente sbagliato questo servizio sta dicendo ho abbandonato quelle che sono tutte stronzate e ora taglio le cipolle che è un lavoro vero che è una roba vera cazzo vuol dire sta roba qua la vita reale è tritare le cipolle poi la mia vita è cambiata molto ora sono papà di due bambini ma se hai ancora il dolore psicologico potresti essere un padre terribile la tua vita è cambiata molto perché hai fatto un percorso di psicoterapia che ti ha risolto problemi esistenziali questo doveva dire e questo dovevamo fargli dire perché questo è scriptato evidente che è scriptato cosa vuol dire? ho fatto i figli quindi son guarito ma la vogliamo smettere di realizzare i figli come se uno ha figli o se fa figli allora è una persona normale e se non li fa non è normale perché è questo che sta passando può una persona nel 2022 decidere di non fare figli liberamente senza essere considerato un cazzo di stronzo dalla società? può? può? può una coppia decidere che fare figli non è nel suo interesse non rientra nelle sue desideri nelle sue aspettative di vita? si può? mi sembra che si possa allora possiamo smettere di idealizzare i figli come la panacea di tutti i mali questo ha detto ora una vita normale perché ho un lavoro sono sposato e ho due figli quindi sappiate che se non avete due figli non siete sposati non avete un lavoro siate degli stronzi ve l'ha detto il Tg1 posso dire che è un babbo che dichiara di vivere giorno dopo giorno periodo dopo periodo e ha messo al mondo dei figli mi preoccupa lo posso dire questo? da che? cosa vuol dire le cose che sono irreali? quindi non puoi guardare un film di fantascienza? non puoi guardare si e sai che è irreale? cosa vuol dire perdere tempo alle cose irreali? irreale cosa vuol dire irreale? andiamo a vedere irreale wikipedia irreale irreale andiamo a vedere la definizione c'è devoto oli che non è reale che cos'è reale visto che è reale la negazione è reale che esiste che è vero quindi i social esistono sono veri sono dei server e sopra ci sono delle persone vere cosa sono cos'è irreale? cos'è irreale? io 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 ma di cosa cazzo stiamo parlando? tg1 onorevole potere legislativo giornalista elettori monafish vuoi giocare a clash royale? monafish non gioco a clash royale non mi è piaciuto moltissimo clash royale lo trovo un po' troppo fortium based e ha anche delle componenti di gioco d'azzardo che non mi piacciono come tutti i giochi dove si spacchetta roba secondo me gli hanno fatto la terapia dell'elettroshock come su American Horror History non lo so ci sono delle comunità che però vorrei tenere d'occhio se fossi ministro della sanità perché anche tutte queste comunità dovrebbe pensarci lo stato capiti di avere un problema quando in una giornata intera avevo mandato ben 500 trilli di messenger capiti di avere un problema quando mangiavo 74 hamburger al giorno esatto uguale grazie Mario Tania ma di che? cioè le penso cioè non sì ho capito cosa intendi però basta figli siamo in troppe al mondo infatti fiero di essere uno stronzo siamo in due stronzi la maternità non è un obbligo è una scelta è una scelta il tuo sì o no alla maternità non ci può né derivare alcuna critica appunto anche la paternità che poi se fai figli come fai con il demone di internet esatto ma non sanno manco loro cosa vogliono dire ho capito però lo vanno a dire al TG1 eh perdere tempo nelle cose che sono in reale io boh Maria io esco esatto perché capito cioè il paradosso è questo Giulia che se invece guardi Maria di Filippi che è reale va bene cioè non puoi giocare a un videogioco che è irreale anche se è realissimo perché esiste è un ammasso di codici ma è reale perché le cose digitali sono comunque reali così ci dice il dizionario ce lo dice il devoto Oli poi magari il devoto Oli non ne sa abbastanza non ho lavoro non posso avere figli non sono una persona degna di vivere mi fanno sentire così da quando ho 15 anni mandali a fanculo te li posso mandare a fanculo io a quelli che ti fanno sentire così digli va a fanculo l'associazione nuovi orizzonti quella dell'evangelizzazione delle strade secondo te che concezione di vita normale posso dare a pesa non so però ha parlato di spartanai quindi sicuramente non l'inglese non l'uso dell'inglese Brawl Stars e Fortnite Brawl Stars l'ho giochicchiato di nuovo odio i meccanismi che istigano un po' al gioco d'azzerto ho capito Mario però è scandaloso che tu stia cercando il reale su Wikipedia ho cercato su Devo Toll se è messo veramente male alza e ti prende il tuo treccani impolverato torna alla manualità del passato tanto è bello bel mattone peso che per trovare un termine ti vuole un mese torniamo agli archivi cartacei cazzo onorevole Cangini dai perché giustamente la scuola è ancora ancora con i libri di testo continuiamo a buttare giù cazzo di alberi così poi non ci avremo più un cazzo da respirare però sapremo leggere i libri bravi se mi citi Harry Potter però mi sciolgo Harry Potter è irreale la magia è irreale quindi siete tutti figli del demonio ma cosa c'è cosa c'entra questo guardate lo sguardo della giornalista qui c'è stato un grosso unveil lo vedete che sta pensando palesemente che cazzo stiamo facendo con questo servizio io la vedo la vedo è lì che è perplessa guardate analizziamo un attimo analizziamo un po' il linguaggio non verbale ha un ghigno vedete è contratta in una smorfia ha il sopracciglio destro alzato è perplessa perché quello che le stanno dicendo non la convince molto braccia incrociate si sta chiudendo non accetta quello che viene detto l'interlocutore le sta parlando in un modo che non le piace lie to me baby lie to me colpisce questa testimonianza si colpisce davvero le palle però fa impressione e io minore che ci ha fatto la stessa fa impressione non solo casi rari ce lo diranno i grafologi dai ragazzi però porca puttana ecco lì il coccomore ma poi cosa vuol dire 100.000 in Italia e in Giappone sono più di un milione non vuol dire nulla devi guardare le percentuali onorevole Cangini vieni qui a San Martino vieni qui alla sede di Dungeon Dice che ti spiego la statistica di base dai te lo spiego io capisco che magari non te l'hanno insegnata non vuol dire nulla un milione centomila devi fare un rapporto con la popolazione e poi devi creare una correlazione di caso effetto cosa cazzo c'entrano gli ikikomori con la cooperativa Nuove Orizzonti con uno che affetta cipolle e con i videogiochi cosa c'entra cosa c'entra ma non è detto l'ikikomori potrebbe anche non essere connesso a nulla potrebbe anche essere chiuso in una stanza e non fare nulla a fissare il soffitto in totale depressione è una forma depressiva di sociopatia depressiva e deve essere curata ci sono dei percorsi terapeutici ci sono degli specialisti c'è gente che studia questo tipo di malattia perché è diagnosticabile quindi è una malattia si cura se ne esce e si può anche videogiocare ma poi è un'altra roba no ora l'ikikomori è una cosa complessa io non sono uno psicologo e non mi ha dentro se c'è qualcuno che lo è ci può dare più informazioni ma tolto questo possiamo dire che hanno rotti i coglioni con questa filosofia del dobbiamo incontrarci di persona che l'uscire è una cosa sana ma chi l'ha detto ma sarà libero io di rendermi conto di cosa mi fa stare bene cosa mi fa stare male io ho 38 anni 39 ormai fra un mese nemmeno magari fra un mese fra tre settimane ho studiato ho la mia famiglia composta da me e mia moglie evidentemente sono unikikomori perché non ho figli ho una mia impresa vengo a lavorare socializzo con i miei dipendenti con i miei clienti con voi questi tre giorni il mio sogno e la mia ambizione è stare in casa con mia moglie telefono spento zero rotture di cazzo lavorative sistemarci delle cose in casa che restano sempre indietro perché facciamo 8-20 perché lo stato italiano e di questo l'onorevole cangini non me ne parla vuole da me una quantità di tasse che non riesco a sostenere guardarmi qualche serie su netflix giocare a star du valley gioco in scatola perché mi è piaciuto un botto farmi i cazzi miei nell'intimità della mia famiglia devo essere classificato come sociopatico e voglio giocare a disco elisium che mi sta insegnando a scoprire degli aspetti di me che non conoscevo perché è un videogioco della madonna devo andare per forza al bar a bere un cocktail con gli altri per essere normale mi piace andare al bar con gli altri a bere un cocktail ma se non ne ho voglia sono un sociopatico ma non vogliamo smettere di idealizzare il parchetto con gli amici come un metodo sano di vivere nel parchetto con gli amici ci andavi a giocare a pallone a non fare una sega a farti bullizzare oppure ci andavi a divertirti a fare sport oppure ci andavi a conoscere l'amore a sbaciucchiarti oppure ci andavi a bucarti con l'eroina il parchetto non è un posto migliore di internet è un posto come un altro è il bagaglio di esperienze di conoscenza del mondo che ti porti che ti fa fare scelte giuste o sbagliate che cazzo c'entra questa cosa oh vedi che ci arrivi cangini tutti noi che abbiamo un figlio drogato tutti noi che abbiamo un figlio drogato tutti voi che avete un figlio drogato avete bisogno di aiuto perché probabilmente non siete in grado di gestire una cosa così grossa come la droga la dipendenza da una droga quindi figurati se siete in grado di capire la correlazione che esiste fra aver bisogno d'aiuto e intervenire con gli opportuni strumenti che non possono essere il ti chiudo a chiave in cassa e ti faccio smattare finché non ti passa l'astinenza ci vogliono dei percorsi riabilitativi ma devi anche cercare premesso che uno si può drogare a 50 anni e aver avuto i genitori migliori del mondo nei 40 anni precedenti perché può andare incontro alla merda nella vita aver bisogno di trovare una soluzione dove la società non gliela offre dove il mondo esterno non gliela offre è sbagliato perché è sbagliato semplicemente perché è nocivo per te non perché sia sbagliato in senso assoluto una cosa che danneggia l'essere umano è da considerarsi sbagliato perché sono meccanismi esseri predisposti alla sopravvivenza non all'autodistruzione quindi ovvio che un concetto di autodistruzione sia da considerare nocivo per l'essere umano perché quando l'essere umano non è più non è più semplicemente non è quindi la non esistenza deve essere combattuta da un essere che vuole esistere ma detto questo diciamo che il problema è la depressione che la depressione è stata mitizzata che continuiamo a dire alle persone depresse dai tirati su la vita non fa così schifo pensando che si risolva così possiamo continuare possiamo creare un dibattito sul fatto che non si affronta la depressione che la depressione poi porta a trovare risposte laddove altre risposte non ci sono possiamo parlare della depressione come il reale problema della società anzi che dei videogiochi possiamo parlare delle cause che causano depressione dei motivi per cui si raggiunge la depressione motivi per cui poi si trovano forme di droga artificiale che sia l'eroina la cocaina che sia chiudersi in se stessi che sia correre sull'autostrada a 300 km orari con l'automobile che sia andarsi a sballare tutte le sere che sia affogarsi nell'alcol che sia fumare 700 sigarette e farsi venire 18 neoplasie che sia suicidarsi che sia diventare persone tossiche sul lavoro parliamo di questo parliamo degli anni in cui alle persone tristi gli si è detto dai tirati su e quello ci gode a stare male il depresso è felice di essere depresso bastava che ah meno male me l'hai detto non ci ho pensato bastava che non fossi più depresso che sciocco io ho avuto gli attacchi di panico in banca mi dicevano dai sarà stata una settimana una settimana secondo voi una persona gli vengono gli attacchi di panico per una settimana andata storta cosa cazzo stiamo dicendo oh non vi consente di rendervi responsabili quindi diciamo che bisognerebbe istituire la patente per fare i genitori c'è la patente per guidare la macchina c'è la patente per guidare il camion perché mettiamo le patenti perché dobbiamo certificare la tua abilità nel fare quella cosa siccome essere genitore è un cazzo di casino a mio avviso è uno dei mestieri più complicati per due motivi il primo è che devi plasmare dal nulla una creatura che non sa nulla ma che è diversa da te e i danni che si fanno in fase genitoriale sono pazzeschi pazzeschi tutti i genitori causeranno un danno ai propri figli è matematica questa cosa l'intensità la gravità del danno dipende dal genitore e allora ci sono vogliamo dire che ci sono migliaia di genitori che non dovrebbero essere genitori e che ci sono ritrovati a essere genitori o sono voluti essere genitori perché la società gliel'ha imposto o perché non li ha educati sessualmente perché parlare di sesso e di prevenzione del sesso è ancora un cazzo di tabù in Italia vogliamo dire queste cose vogliamo dire che bisogna preparare i nuovi genitori che bisogna assisterli che bisogna creare un percorso per i nuovi genitori bisogna capire che non si può essere genitori solo perché la biologia ce lo consente e che se si fanno danni in una società estremamente amplificante come quella che viviamo succede questo ma questa è una responsabilità genitoriale lo sta dicendo Cangini dopo sei minuti di servizio dove ci vogliono convincere che il male assoluto sia il web sta dicendo che il problema è che i genitori sono fottutamente deresponsabilizzanti deresponsabilizzati e non sanno gestire i loro figli fine quindi bisogna educare i genitori a essere genitori o educarli a non fare figli punto questo deve essere il servizio i drogati li vogliono loro basterebbe legalizzarli invece no meglio un milione di drogati mi toso che un milione di giovani che ti chiedono di poter lavorare mi è partito Black Betty dopo i messaggi Giulio Mario ma chi ti ha mandato questo video da Rai facendo parlare di Silvia nella scaletta Cangini ha molto probabilmente un figlio che si droga e videogioca e ha voluto scrivere un libro su questo senza informarsi come si deve da quello che ha detto finora effettivamente Giovanni tutta questa live è un discorso delicato è un discorso però vedi lo sai cos'è Tania e Angelo che è un discorso delicato ma è anche un discorso che in realtà andrebbe affrontato con la semplicità con cui si dovrebbero affrontare i discorsi delicati invece di giustificarsi dietro sempre ci sarebbe tanto da dire è complicato va bene è complicato ci sarebbe tanto da dire cominciamo perché allora se ci vogliono 10 anni a risolverlo questo problema quando vogliamo iniziare nel 2079 nel 2099 quando vogliamo iniziare hai tirato un mascigno eh lo so io penso ai poveri bambini che sono nati per riparare i matrimoni in relazioni bravo Andrea torniamo a sto servizio state devast no state devastando bravo Cangini ma la Cangini è un grande lo voto state voi adulti genitori devastando le nuove generazioni con la vostra incapacità di non utilizzare il cellulare e di dedicare il vostro tempo a vostro figlio perché i bambini imitano il comportamento dei genitori se il babbo sta a ore a guardare instagram se la mamma sta a ore a guardare instagram il bimbo si isola su instagram se il babbo sta a ore a parlare con il bambino il bambino parla con il babbo gioca con il babbo si è in relazione al babbo bravo Cangini allora hai capito ti ci sono voluti sei minuti un libro per capirlo però hai capito che il problema come sempre è l'essere umano non la cazzo di tecnologia tipo e quindi si è in relazione al babbo si è in relazione al babbo si è in relazione al babbo muto il microfono un attimo risentiamolo risentiamolo non si è preso atto si è condotta una ricerca scientifica che ha correlato l'uso del fumo ai tumori al polmone cosa vuol dire il web fa male ai giovani cioè se io faccio una ricerca su internet sto scrivendo ciao mi chiamo Mario ciao sono Mario Colorado Video sto male ora mi ha fatto male ragazzi ma questo è un crimine contro l'umanità questo servizio ma di cosa stiamo parlando un disegno di legge per far dire ai giovani cosa si fa si fa la barra dei cookie ci si scrive oh attenzione questo sito fa male se compri le scarpe su Amazon ti fai male se guardi un video su Youtube di un comico di Colorado fa male ma cosa ma cosa sto sentendo come fai a correlare il fumo il tabacco dove ci sono delle evidenze scientifiche che hanno correlato attraverso teste doppio cieco l'insorgenza di neoplasie polmonari all'utilizzo delle sigarette e poi scusami onorevole Cangini quindi cosa mi vuoi dire che se c'è scritto fumare fa male sulle sigarette fa fumare meno cioè dobbiamo spendere questo cioè dobbiamo investire in cosa in cosa vuoi fare dobbiamo andare in parlamento avere parlamentari pagati a votare una legge così il web fa male diciamo alle aziende del web che fa male io ho un'azienda del web cosa vi devo dire quando comprate i giochi su Dungeon Dice oh state comprando i giochi su Dungeon Dice l'aver visto il sito Dungeon Dice fa male il portafoglio vi farà male eh perché i genitori non controllano arrestiamoli tutti la sorveglianza del minore è obbligatoria se un minore contrae un contratto quindi l'iscrizione a un social ad esempio e è richiesta l'autorizzazione del genitore e questo si iscrive il genitore deve essere sottoposto a procedimento penale deve andare al gabbio se sta violando una legge perché il tutore deve sapere cosa cazzo fa il figlio quindi perseguiamo questi genitori cioè scusate sta dicendo una cosa che a livello innessologico non ha senso non ha senso se sta dicendo che esiste una legge che impone che un tredicenne non si debba iscrivere a un social e che ci debba essere l'autorizzazione del genitore se il figlio riesce a iscriversi a un social significa che il genitore non ha controllato cosa stava facendo giusto? e se il genitore è il tutore quindi il responsabile civile e penale di quel minore ne deve rispondere di fronte al giudice se è in violazione di una norma cosa c'entrano le compagnie del web cosa deve fare la compagnia del web pensi che se ti chiede la scansione la carta d'identità tuo figlio non ti leva la carta d'identità dal portafoglio quando non te raccogge la scansiona? lo capite che se non si controllano i figli si ottiene comunque un effetto devastante con o senza internet questi sono quelli che prendevano la macchina senza la patente è uguale è uguale succede tutt'oggi ci sono un sacco di minori che guidano la macchina della mamma e del babbo e poi si vanno a schiantà allora diciamo alle automobili di scrivere sul cruscotto la macchina ti può uccidere perché nessuno controlla i genitori sono conniventi bravo Cangini ragazzi Cangini senatore dell'anno o o a a saremo nelle condizioni di affrontare il problema quando la società avrà abbastanza coscienza da rendere criminale il genitore che parcheggia il figlio davanti allo smartphone risentiamola un capolavoro della logica no Cangini non funziona così si parla di un problema si affronta e quindi si arriva a una società in cui i due stronzi senza mascherina sono messi al bando dal centro termale quindi il rapporto con l'elettorato seguendo sempre il sistema che utilizza Cangini nel creare causa-effetto non è così importante cioè lui è lì solo per dirvi votatemi ma poi cosa dite o cosa fate non gliene frega mica un cazzo poi una volta che ha preso i voti ci si vede fra cinque anni pensione d'oro va via ragazzi dai basta sono rotto le palle vi leggo due commenti poi me ne vado a casa a fare l'ikikomori per finta usare dungeon dice fa male al portafoglio ma questi in un servizio di ottimuniti sono davvero usciti a dire tutte queste minchia tutte insieme ma è incredibile guarda incredibile peccato per cangini un attimo stava recuperando sì e poi è sprofondato Mario il genitore non è responsabile penale però i reati sono a carattere personale non può finire il gab il genitore per il reato del figlio sarà solo civisticamente responsabile hai ragione hai ragione è la stessa cosa cioè nel senso non cambia nulla nella 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 proposizione stavo guardando una cosa perché volevo vedere i numeri di cui parlava prima che roba fuori di testa però anche sulla vedi quello che volevo dire Nick ma infatti ho detto questa cosa qui non ho detto quello che dicevi te secondo me dovrei riverificarlo però la responsabilità del genitore è in caso di mancata sorveglianza del minore non che sei responsabile se il figlio lo ammazza qualcuno ma sei responsabile penalmente se non sorvegli quello che ha fatto figlio questo intendo e mi pare che sia così ma qui siamo a livelli di critica della ragione pure di Cantiana Memoria ma insomma siamo un po' più alla nausea qui quindi la legge attuale non vale niente vale solo il pensiero della società parlo di social ma lui non li conosce favola esatto capito questo è la brava Giulia parla di cose che non conosce perché ha capito che sono una perdita di tempo ma veramente guardi i numeri si sarei ambientati come tutto Giulia magari tutte le persone fossero utili come te e Silvia ma in questo caso il reato è la mancanza di controllo del figlio esatto questo intendevo questo ho detto ho detto che se tuo figlio si iscrive a un social e non può farlo sei a mio avviso passabile di mancata sorveglianza di un minore perché lui sta violando una regola e te non stai controllando il fatto che lui lo stia violando però è mancata sorveglianza capito cioè se mio figlio scappa di casa corre in mezzo alla strada io non faccio nulla perché sono al bar con gli amici e l'ho lasciato da solo in casa e causa un incidente stradale che causa 150 morti è reato penale non ho sorvegliato mio figlio quindi è inutile dire l'89% dei 13 anni sono iscritti ai social e non potrebbero non potrebbero perché i genitori li hanno permesso se non potrebbero si fa qualcosa quindi nei confronti di questi genitori o no io non ritengo che sia una cosa da procedimento penale è chiaro però che poi se sfocia davvero un abuso allora sì allora sì sì va bene hai ragione hai ragione ho detto in quanto tutore è responsabile civilmente e penalmente no in quanto tutore si deve occupare della sorveglianza e quindi ne è responsabile di questa sorveglianza civilmente e penalmente hai ragione però volevo che fosse chiara questa cosa qui bene ragazzi è stato non un piacere vi odio tutti mi avete triggerato oltre ogni modo questo servizio fa schifo questo servizio arresto dalla dalla televisione pubblica essendo televisione pubblica fa ancora più schifo i commenti di questo senatore sono totalmente non condivisibili non li condivido mi dissocio totalmente non reputo che sia rispettabile questa opinione un'opinione dovrebbe essere informata il senatore dice che palesemente non conosce questi strumenti neanche li usa li usa solo per prendere il vostro voto e poi si cancella e lo dice ridendo di nuovo e è una zuppa è un minestrone è una cosa che fa acqua da tutte le parti vorrei davvero a questo punto capire le fonti di questo signore di questa argomentazione vorrei che questi studiosi questi scienziati come li ha definiti lui si esponessero pubblicamente si facessero vivi e giustificassero questa analisi che hanno condotto con delle prove quindi basta finire il video con vi odio tutti tirando i coversi vi odio tutti perché oggi volevo andarmene a casa preoccupato per la salute dell'azienda come sono sempre perché un'azienda in Italia deve sempre stare sulla graticola mai stare sereni e felici ma non volevo vedere questa boiata fino in fondo avevo visto due minuti avevo rotto le palle poi avevo visto che quelli sul 7 ne avevano parlato poi ne aveva parlato curo lili non ho seguito le loro live ora me le recupererò per vedere quanto è distante il mio pensiero da loro mi immagino zero però è una roba vergognosa vergognosa e niente ragazzi io cosa vi posso augurare una buona tre giorni di fate quello che vi pare divertitevi come vi pare lasciate perdere queste considerazioni se volete stare chiusi a casa nel letto a riposare energie in mente e schiantarvi 18 serie su Netflix fatelo non siate strani e vi ricordo che come sempre domenica c'è roba tutta la resta settimana c'è roba la roba che c'è la trovate sotto di me nella programmazione poi non so se il 25 essendo festa nazionale una delle feste nazionali più importanti dell'Italia ricordiamocelo sempre facciamo roba non lo so Silvia facciamo roba non lo so mi ha parlato anche Dario Moccia bene andrò a vedere anche Dario Moccia non lo sapevo c'è tutto il 25 quindi bene mi conferma che la programmazione è lineare seguiteci 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 perché ragazzi è importante che ci seguiate allora normalmente noi facciamo un ride io non sono proprio dell'umore di fare il ride stasera cioè poi ci chiedono ma di cosa parlavate parlavamo di quello lì ma non lo so Silvia sei la project manager di questo canale vogliamo fare comunque un ride dimmi te rimanete in attesa un attimo che Silvia decide se vogliamo fare il ride va bene dai ride a che ti pare io metto in fine live vi saluto vi auguro buon divertimento buon weekend ci vediamo la prossima settimana non so su cosa mi triggererò la prossima settimana però per il mio benessere cardiaco spero di avere argomenti un pochino più light ciao a tutti ciao a tutti